2.200 euro a favore della casa di Iris, in ricordo di una docente deceduta, Ingrid Lofoco. È la donazione concretizzata dall'Istituto Paritario Marconi di Piacenza. I fondi sono stati raccolti attraverso la vendita di un calendario, realizzato dagli studenti in videocollegamento. Un'idea portata avanti con poco tempo e con un po' di difficoltà, perché i ragazzi, come ben sapete, erano. Però devo dire che l'intento è uscito. Un gesto solidale a favore dell'ospis di Piacenza, in memoria di una professoressa dell'Istituto, che si è spenta qualche mese fa. Questa idea è nata dopo che abbiamo saputo che una nostra docente, purtroppo, era affetta da questo male incurabile, che è stata ricoverata presso la casa di Iris. Per cui tutti i docenti, insieme agli alunni, hanno pensato di realizzare qualcosa per poterlo donare in sua memoria alla casa di Iris. Per cui gli stanno cercando di rimbla normalmente, attraverso armato di Dio.